Allora, un libro per viaggiare, un libro per viaggiare consiglierei un fumetto, un altro tipo di letteratura ma sempre valente diciamo, ed è Rughe di Paco Roca. Rughe di Paco Roca si presta bene al viaggio proprio perché è legato ai ricordi e quello che facciamo viaggiando è appunto pensare a cosa ci lasciamo alle spalle e a cosa andiamo incontro. Poi soprattutto il finale vedrete, ovviamente non dirò niente, però è legato al tema del viaggio in treno quindi mi raccomando non lasciatevelo scappare. Invece per l'arrivo, l'arrivo consiglio un libro che è etichettato per bambini, ma a me non piace dare questo tipo di etichette, è semplicemente un libro ed si intitola Augura Trat, tartaruga al contrario, di Roan Dahl ed è, a parte che è sempre stato uno dei miei libri preferiti, ma dà bene l'idea del senso di relax, dell'arrivo, ma non in senso relax, di smettere di pensare, ma di pensare a qualcosa di familiare, in questo caso una buona avventura.